Nella primissima mattinata un incendio ha distrutto il famoso chiosco di Sappusi a Marsala, molto conosciuto soprattutto tra i giovani perché collocato tra l'istituto magistrale e il liceo scientifico. Nella notte dunque è divampato un incendio che ha letteralmente distrutto lo storico chiosco di Panini di Sappusi a Marsala che si trova, come già detto, tra le scuole Pascasino e Ruggeri. Lo scoppio è avvenuto intorno alle ore 4 del mattino. Sono stati interessati dalle fiamme anche gli alberi all'interno dell'edificio scolastico. Al vaio al momento le cause che hanno determinato l'incendio.